Ci piace darle come nome di fantasia, speranza o vittoria se volete. Ha vissuto per quattro mesi e più qui alla terapia intensiva neonatale di Nocera Inferiore, la piccolina nata da un parto prematuro gemellare. Il suo gemello era tornato subito a casa, lei invece raggiungerà l'intera famiglia domani ad Angria ad attenderla una grande festa. Ha lottato duramente per farcela ed è stata operata una prima volta per l'equip della TIN di Nocera Inferiore al dotto di Botallo. Siamo riusciti ad arrivare alla fine di questo lungo percorso, la bambina ha risposto molto bene dopo l'intervento di cardiochirurgia che ha avuto per la chiusura di questo dotto di Botallo aperto che non riusciva a farla respirare bene. Siamo riusciti progressivamente sia a destubbarla e poi piano piano a metterla, a passarla in cullette. Adesso si alimenta bene, respira autonomamente e finalmente la dimettiamo. Poi seguirà un percorso di follow up che deve essere continuo. Voglio approfittare per ringraziare tutti i miei collaboratori, medici e infermieri che sono prodigati tanto, i nostri cardiologi che ci hanno seguiti passo passo, soprattutto il dottore Marinelli che è stato sempre molto disponibile. Ringrazio un po' tutto e ringrazio soprattutto la bambina che ce l'ha fatta. Oggi pesa 2,7 kg? Sì, oggi 2,7 kg con 43 settimane di edagio stazionale, 44 settimane di edagio stazionale. La bambina è nata da un parto gemellare prematuro? Parto gemellare prematuro di 700 grammi, ha avuto diverse difficoltà, ha avuto un premio motorace ripetuto, è stato intubato per mesi, si è avuto un scompenso cardiaco, aveva dovuto proprio acquistare tutto di botallo aperto. Insomma, è stata molto forte, ha risposto molto bene. Quanto tempo è durato l'ultimo intervento e quanto tempo la bimba è rimasta qui in reparto? La bimba è rimasta qui in reparto forse per 4 mesi, quindi l'intervento è durato una mezz'ora, come intervento tecnicamente. Però è stato un po' il dopo, che è stato inizialmente, le prime 24 ore dopo l'intervento sono state un po' più delicate, perché poi è chiaro che è un intervento di un certo spessore. Quindi poi piano e piano si è ripresa e siamo riusciti a procedere poi rapidamente sia nel destubare la bambina sia nel cominciare a rialimentarla per via autonoma, diciamo. Le faccio un'ultima domanda. È un intervento di elevata difficoltà o è un intervento che affrontate oramai come routine qui in questo reparto che è l'avanguardia, diciamocelo? Noi è la prima volta che lo abbiamo fatto in questo reparto, ma è un intervento che possiamo fare, anzi, possiamo, grazie a questo primo caso che è successo, possiamo evitare questi trasferimenti che comportano stress per i bambini, ulteriori gravità nelle condizioni cliniche di un bambino che già sta male di per sé, poi affrontare un trasferimento in un altro ambiente, eccetera. Sono tutte situazioni di criticità che abbiamo fatto bene ad affrontarlo qua.